Anche noi da sempre siamo stati scelti da Dio per vivere una vita santa, libera dal peccato. È il pensiero che Papa Francesco ha offerto a quanti si sono radunati in Piazza San Pietro per la recita dell'Angelus nella solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. In questa giornata la Chiesa contempla la piena di grazia che ci sostiene nel nostro cammino verso il Natale perché ci insegna come vivere nell'attesa del Signore che viene per tutti e per ciascuno. Certo non sarà stato facile per la giovane ragazza di Nazareth ma la Madonna ha chiarito il pontefice e non si è mai allontanata da quell'amore, tutta la sua vita è stato un sì a Dio. E il mistero di questa fanciulla che è nel cuore di Dio non ci è estraneo, infatti Dio posa il suo sguardo d'amore su ogni uomo e su ogni donna. Di cui l'invito a contemplare la nostra madre immacolata riconoscendo anche il nostro destino più vero, essere trasformati dall'amore preparandoci ad accogliere il tenero braccio di Gesù che ci dà vita, speranza e pace. Nei saluti dopo la preghiera mariana Papa Francesco ha infine chiesto a tutti di unirsi spiritualmente al pellegrinaggio che compirà questo pomeriggio in Piazza di Spagna per pregare ai piedi del Monumento dell'Immacolata prima di recarsi anche a Santa Maria Maggiore. Piena di grazie, piena di grazie, piena di grazie. Grazie a tutti.